Il numero 253-17-11-29, avendo oggetto la processione delle condizioni di edifici monale dell'organizzazione di tanti colori montaggi, finalizzata per il momento allo produttore dell'energia elettrica con lo spazio di una, 1, diventerà città della relazione strutturale che ha trovato lo studio di prepasibilità dell'organizzazione di tanti colori montaggi sulle specifiche di produttore degli edifici di proprietà comunali che presentano le interviste e irore. 2, il legale di inizio del stesso settore per l'operazione di attività di salare, compiline, terzi, concessione per il demante dell'inizio delle azioni per tutte e diifici monale, in oggetto a ottenere la processione di installazione, la condizione di processione degli appi, la cortesia, secondo lo che dovrà considerare le esigenze per il titizio di gara di un'idea di salute di gara, preso altro che il argomento è stato già portato alla presione del Consiglio Governo il Consiglio del Consiglio del Consiglio del Consiglio del Consiglio Governo e nella Sesta 1 uvicciussa a caso di sovravenire a una tasca di un orgadno di led어도 che è essenzili dell'articolo approfondimento del preso conti del 1217 e del 10.000 la metà che viene da un'esercitazione del Consiglio Bonale si mette a subito in relazione la reazione è lo stesso, per cui questo è il concorso di vita, parlare alla consigliere Nassi. Prego, consigliere Nassi. Allora, questa è la proposta del dirigente del stesso settore che è con la proposta dell'attenzione della quarta Commissione Consigliare da me presieduta, dare proposta vuol dire che a quale ha risposto di tutti i commissari che fanno parte della quarta Commissione e sulle imprese sono sicuramente... ... 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 Si pronuncia dal Presidente. Va bene. Consigliere Lucio. Presidente, preso l'acqua di Roma, l'analisa, oltre che pubblicamente, anche pubblicamente, sembra interiore al necessario per votare in qualsiasi anno, io chiedo Piazzano e chiedo all'inizio che hanno segnato, grazie. 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 Sì. Grazie. Pesente Pesente As external Pesente presenta 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 assenta 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 presenta presenta assenta 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 presenta presenta assente, 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 ass Assetti per le parole. 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 Assetti per le parole.